benvenuti a tutti voi buon anno buon inizio oggi avevo piacere di fare una piccola diretta quindi vi ringrazio della vostra compagnia oggi prepareremo un impasto molto facile e veloce per realizzare dei piccoli tarallini quindi un'idea adatta per l'aperitivo ma altresì è molto interessante poter inserire ciotoline con questi salatini che andremo a preparare all'interno di un tagliere di affettati formaggi una varietà di gusti colori forme ok ma allo stesso tempo interessante anche all'interno di un cesto di varietà di pane quindi allora adesso io vi propongo questa ricetta non è proprio una ricetta tradizionale di tarallini ma è un impasto molto veloce che talvolta vi può tornare utile quando non avete tempo di conseguenza spesso capita di aver bisogno anche di ricette facili ok allora prima di cominciare volevo dare qualche saluto e qualche augurio di buon anno buon anno a tonino cristina gianni buonasera benvenuti e grazie di essere con me allora cominciamo subito con la ricetta vi presento un po le farine che andiamo ad utilizzare abbiamo 75 grammi di farina 00 che andiamo inserire direttamente nella terrenetta poi abbiamo 70 grammi di farina di semola rimacinata ecco qua inseriamo tutti i due tipi di farina adesso questo impasto che prepariamo servirà per realizzare occhio e croce ne vengono fuori tipo 25 di questi tarallini che potrete conservare all'interno di un cellophane per qualche giorno però alla fine vedrete un impasto talmente veloce che come si suol dire insomma fatti cotti e mangiati quindi possiamo possiamo farne una piccola quantità e ripeterla al momento del bisogno ok oltre alle farine andiamo ad inserire anche del rosmarino perché quest'oggi li volevo appunto profumare con rosmarino e vino bianco poi magari mentre impastiamo vediamo anche altre alternative poi mettiamo un pochino scarso di sale ecco qua ok e poi ci mettiamo anche un pochino di zucchero io ce lo metto sempre ecco qui quindi anche un pochino di zucchero così adesso diamo una bella mescolata alle farine e poi andiamo a inserire tutto il resto mentre sono qui do un saluto anche a tamara mando un bacino se mi sta ascoltando ci tenevo ci tenevo a dare un salutino e benissimo vittorio buonasera enrico buonasera grazie per gli auguri ciao renata ok allora mescoliamo queste farine e poi andiamo ad aggiungere anche una bella macinata e poi vado ad inserire un 50 ml di vino bianco da tavola ok ecco qua adesso iniziamo a girarmi nuovamente spero che l'audio sia buono che la connessione ci sia perché con tutti questi scambi di auguri magari la connessione non è tra le migliori quindi fatemi sapere ok allora adesso diamo una mescolata veloce a questo impasto e andiamo inserire anche 35 ml di olio extravergine di oliva ecco qua poi utilizziamo un lievito istantaneo un lievito che si usa per gli impasti per la pizza per le torte salate quindi vedrete appunto utilizzando questo lievito non necessitiamo di tempi di riposo e nemmeno di di precotture o di bolliture come talvolta ci succede con le ricette tradizionali di questo tipo di impasto ecco qua aggiungiamo il nostro lievito istantaneo magari diamo giusto una girata con le frustine che così magari diciamo di impastare più velocemente ecco qua ok stacchiamo tutto si possono fare questi impasti anche con delle planetare o comunque dei robottini che vi permettono l'impasto però io mi trovo bene anche a farlo così a mano adesso l'impasto è poco quindi si sta veramente un secondo a prepararlo tutto sta nel raccogliere il tutto e impastare ecco oggi la giornata giusta qui da noi piove quindi giornate di impasti diamo forme al tutto da voi com'è il tempo sto nevicando piove come siete ecco qua quindi adesso noi ce lo lavoriamo poi io vi faccio vedere anche quando vi mostrerò i tarallini terminati vi faccio vedere il risultato sia dell'impasto fatto scusate a mano ma anche dell'impasto fatto con la plantaria sono due impatti diversi alla vista però poi il risultato sarà comunque molto fragrante non vi risulterà croccante ma fragrante ok quindi adesso ce lo lavoriamo bene qualche minutino giusto per unire e amalgamare bene il tutto ok ecco qua a questo punto di questo panetto che abbiamo realizzato che adesso vi lo mostro è liscio e anche molto elastico ecco qui ok ci prendiamo una parte e iniziamo ad arrotolare arrotoliamo questo lavoretto simpatico io lo chiamo scaccia pensieri rullo rullo l'impasto e scaccio pensieri ok adesso torniamo a impastare che non serve aggiunta di farina mentre lo lavorate quindi direttamente lo utilizzate sul piano di lavoro quindi facciamo prima una strisciolina bella liscia poi andiamo a incidere facciamo dei taglietti a due centimetri di larghezza e allora stavamo dicendo intanto che impastiamo dunque oggi facciamo rosmarino e vino bianco però alternative potrebbero essere alla pizzaiola quindi se abbiamo messo ad esempio 50 ml di vino in questo caso se volete farli alla pizzaiola magari togliete un pochino la dose del vino e ci mettete magari del concentrato di pomodoro e poi al posto del rosmarino ovviamente un pochino di origano oppure altre alternative potrebbero essere della curcuma oppure se vi piacciono dei tarallini allo zenzero altre idee che mi possono venire in mente potrebbero essere anche con semini di papavero con semi di zucca insomma di idee ce ne sono tante a seconda un po' dei gusti utilizzate sempre questa stessa dose però andate a cambiare poi il tipo di ingrediente ok quindi adesso faccio dei taglietti un po' come quando si fanno i blocchetti ne facciamo magari giusto qualcuno assieme poi io me li completo più tardi ok allora una volta che li avete tagliati lo riprendete e iniziate a dare la forma al piccolo tarallino quindi diciamo l'impasto è velocissimo la cottura anche ci vuole quel momentino in più per fare appunto questo tipo di forma ecco questi sono gli unici 5 minuti diciamo che vi richiede allora vedete io adesso l'ho fatto così e vado a posizionarmelo sulla mia teglia da forno con già un pochino di carta da forno sotto quindi piccoli lavoretti manuali abbiamo detto scaccia pensieri allora in forno facciamo che li teniamo una decina di minuti a 180 gradi forno pre riscaldato e quindi gli diamo prima questa cottura a 180 gradi e poi abbassiamo a 140 per un altri 5-7 minuti adesso a seconda del forno magari gli date un'occhiatina in modo che così l'impasto si asciuga deve risultare bello dorato però non deve risultare un po' bruciacchiato ok quindi bisogna controllare un po' il vostro forno ecco qua allora adesso ci si mette un pochino diciamo per lisciare la pasta perché appunto non avendo utilizzato una planetaria vedete ecco io gli do la forma proprio così poi per esempio io adesso do questa forma a tarallino ma potrebbero essere anche delle treccioline potete formare una sorta di grissinetti anche come forme dopo sta a voi un po' decidere che cosa volete portare in tavola ok allora ve ne faccio giusto qualcuno insieme peccato che non abbiamo dei microfoni condivisi se no si poteva fare una chiacchierata che dite? beh ma io dopo vi leggo eh vediamo un po' qualche saluto invece direttemi un po' quest'audio come sta andando con l'audio? perché adesso faccio il video con l'iPad spero che vada un pochino meglio vediamo se qualcuno mi dà qualche cenno di riscontro ecco qui e facciamo i paralleli opla a voi piace impastare? vi diverte? è una cosa diciamo che rilassa potrebbe essere anche divertente per i ragazzi insomma gli date un impegno nelle giornate di pioggia gli troviamo un'occupazione ecco qui allora beh adesso non ve li sto a fare tutti se no vi tengo qua tutta la sera che dite? sarebbe da assaggiarli più che altro? allora io poi li mangio se voi li provate voglio la vostra opinione mi fate sapere come li avete trovati ok? allora io direi facciamo così poi questi magari li completiamo dopo altrimenti li tengo troppo allora inforniamo teglia da porno ok? mettiamo a 180 gradi abbiamo detto per 10 minuti poi abbassiamo a 140 per un altro 5-6 minuti ve li faccio vedere allora io adesso li ho inseriti in questa coppetta e vi volevo far vedere la differenza dell'impasto sia fatto appunto a mano come abbiamo fatto adesso che un tipo di impasto fatto con planetario robottini che vi permettono l'impasto allora adesso vediamo se si vede bene oppure no praticamente con questa luce forse non tanto allora questo vediamo sì questo qui è fatto con la planetaria quindi risulta più liscio mentre questo è fatto a mano di conseguenza è un po' più ruvido come immagine ma a me piace così un effetto un pochino più rustico ok? allora bene li abbiamo fatti adesso trattasi solo di mangiarli di assaggiarli io attendo i vostri riscontri vi ringrazio per essere stati assieme a me e vi saluto vi auguro una buona cena buona cena a tutti ciao ciao